La conferenza di questa mattina del Presidente della Giunta regionale Paolo Di Laura Frattura è portatrice di buone notizie. La prima riguarda la diminuzione, già a partire dalle buste paga di gennaio, del carico fiscale IRPEF e IRAP dei Molisani, carico che era aumentato a dismisura a causa del debito maturato con lo Stato dalla Sanità. Per la prima volta nel 2017, sia da gennaio 2017, rintracciabile nella busta paga di ciascun lavoratore molisano, una riduzione in termini di addizionale regionale, lo 0,30% per l'IRPEF e dello 0,15% per l'IRAP. Riconoscimento dell'ottenimento dei risultati nella riorganizzazione soprattutto della spesa sanitaria, che è passata da un meno 60 milioni di euro all'anno, situazione ereditata a inizio legislatura, al punto di pareggio nel 2015 e nel 2016 già gestificato, seppur con l'aiuto del Fondo di Solidarietà delle altre regioni. Importante anche l'assunzione e la regolarizzazione dei precari nell'ampito dell'ASREM, una iniziativa che sblocca il turnover e in camera, mettendole a posto oltre 900 persone. Presidente, un'altra buona notizia sono le assunzioni all'interno dell'ASREM. Oltre alla riduzione in termini di addizionale regionale, IRPEF e IRAP, abbiamo il riscontro sull'investimento che la Regione intende fare sulla sanità pubblica. Il primo investimento, quello più importante, è sicuramente il personale. Invertire la tendenza con lo sblocco del turnover a partire dal 1 gennaio, con la nostra azienda sanitaria che approva definitivamente l'atto aziendale, che parte con le assunzioni che prevedono parte stabilizzazione dei tanti precari che in questi anni, insieme al personale a tempo indeterminato, ha garantito qualità e continuità dei servizi assistenziali, ma che finalmente si ha la possibilità di trasformare parte dei tempi determinato a tempo indeterminato, avere la possibilità di accogliere in regione con il concorso per la mobilità volontaria tanti professionisti sanitari molisani che lavorano fuori regione e nuovi concorsi per nuove assunzioni. Tutto in attesa dell'incontro del pomeriggio a Roma al Ministero delle Attività Produttive, dove si dovrebbero firmare i documenti per la ripartenza ufficiale della GAM di Boiano. Ecco un'altra notizia buona che può concludersi la vicenda della GAM di Boiano. Abbiamo alle 15 l'incontro al Ministero per lo Sviluppo Economico. Ieri l'Assemblea dei Lavoratori ha deliberato favorevolmente rispetto all'accordo con la Vicola Vicentina e con il gruppo Amadori. Io mi auguro che questo sia un altro segnale di come le politiche di rigore messe in campo in questi primi anni di legislatura cominciano finalmente a dare i primi riscontri favorevoli.